E' l'acqua il filo conduttore scelto dalla delegazione FAI di Nuoro presieduta da Carla Pacchiano per le giornate FAI d'autunno, il Fondo Ambiente Italiano, un programma sabato e domenica nel Capologo Barbaricino e in particolare sul Monte Orto Bene, un appuntamento che ha come slogan l'acqua, un diritto, una risorsa, un valore. Il programma stilato dalla delegazione FAI di Nuoro prevede delle visite guidate sul Monte Orto Bene alle fonti di Sarra di China, Seda Ortae, Seda Eledda, Solote e Emiliano, una visita che sabato sarà riservata agli studenti delle scuole superiori e domenica a tutti i cittadini. Per i nuoresi e non solo ci sarà la possibilità di visitare e conoscere le sorgenti di cui dispone il Monte Orto Bene che in passato rappresentavano una risorsa idrica per la città di Nuoro e che oggi a causa dell'inquinamento e del degrado ambientale non sono più utilizzate a fini potabili. La settimana del FAI è iniziata ieri con un convegno promosso insieme al Consorzio Universitario di Nuoro sul tema dell'acqua intitolato L'acqua, un bene prezioso. I lavori sono stati coordinati da Gianfranco Capra e hanno visto gli interventi del docente universitario Sergio Vaca, già presidente dell'Enas Sardegna, del geologo Francesco Murgia e di Bovore Frau. Un simposio che ha acceso ai riflettori su una risorsa sempre più rara e preziosa che diamo per scontata e la cui carenza affrena lo sviluppo civile di una società. Una risorsa per accapararsi la quale nel prossimo futuro si prevedono a livello mondiale guerre e battaglie. Per favorire l'accesso dei visitatori alle fonti del Monte Orto Bene la delegazione FAI di Nuoro ha messo a disposizione una navetta. I posti sono limitati e chi volesse usufruirne dovrà prenotarsi entro mezzogiorno di venerdì.